Sylvannian families, Freya insegue i suoi sogni! Ciao, sono Freya! Ditemi una cosa, voi cos'avete sognato ieri? Sapete, io ho fatto un sogno incredibile! Ci vediamo nei sogni! L'ho vista l'altro giorno, era una cosa gigantesca! Sì? Amici! È incredibile! Stanotte ho fatto un sogno che poi si è avverato! Cosa? Stai dicendo sul serio, e cosa hai sognato? Ascoltate! Brava, sì! Credo, sei la migliore, sono molto fiera di te! Sei la migliore! Brava, sì! Grazie mille a tutti! Proprio così? E in che modo si sarebbe avverato? Creme è diventata una celebrità! No, affatto! Vi racconto! Quando mi sono svegliata sul pavimento, ho visto Creme nella stessa posa! Incredibile, proprio come nel tuo sogno! Oh, Freya, quello che hai fatto è un sogno profetico, sai? Profetico? Sembra il nome di qualche dolce! No! Fare un sogno profetico significa sognare qualcosa che si avvererà! Ah! Ma è fantastico! Ascolta, Freya! Per caso eri anche andata in bagno? Esatto! Proprio così! Ho capito! Si è addormentata per terra dopo essere stata in bagno! Forse farò un altro sogno profetico! Spero che sia un bel sogno anche questa volta! Ecco! Ci vuole un po' di questo così? Perfetto! Ho finito! Una casa di pane! Papà, è fantastica! Evviva! Questo è stato il mio sogno! E anche questo è stato profetico! Sapete, quando mi sono svegliata... Mio padre aveva fatto il pane! Incredibile! Quindi il tuo sogno si è avverato di nuovo! Sarà davvero così? Il potere di Freya è reale, non c'è dubbio! Anch'io vorrei tanto che i miei sogni diventassero realtà! Immagino che sogni cibo ogni notte, vero? Eh sì! Ma il signor Fraser, non fai pane per lavoro? Non importa! Da far venire l'acquolina! Sei insolito, Pierce! Davvero incredibile! Freya, bisogna ammettere che i tuoi sogni sono straordinari! In effetti sono contenta di avere questa specie di potere speciale! Sì! È bello che tu sia così entusiasta! A me piacciono queste cose! Chissà cosa sognerò stanotte! Non vedo l'ora di sentirtelo raccontare! Contaci! Allora, ci vediamo domani, va bene? Certo! A domani! Ciao! Ci vediamo! Ciao! 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 Lyra! Ralf! A cosa vogliamo giocare oggi? Oh no! Oggi non giochiamo! Oh! Sai, noi ce ne andremo lontano! Non credo che ci rivedremo più! Cosa? Ma come? E dove andate? Ciao ciao! Addio! No, aspettate! Non andatevene! Lyra! Ralf! Cos'era questo sogno? Se si dovesse realizzare, io davvero non saprei che fare! Non c'è! Non ci credo! Lyra! 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 Non è possibile! Ralf! 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 Oh no! Non c'è neanche Ralf! Dove saranno finiti? Amici! Amici! Perché non riesco a trovarmi da nessuna parte? Non possono! Non possono essersene andati! Ciao ciao! Addio! Non è possibile! Davvero non li rivedrò mai più! Però... Ho trovato! Devo soltanto sognare che facciano un ritorno nel villaggio! Sì! Ho deciso! Ci comincia! Buonanotte! Ralf! Ralf! Eccoti! Finalmente! Guarda, guarda! Ferma dove sei, Freya! Oh? Cosa hai? Sei strano! Oh! Lyra! Che vuoi carina? Non darmi fastidio, hai capito? Nemmeno Lyra è normale! Che succede? I ninja sono soltanto dei perdenti! Io invece voglio diventare una rock star! Matematica? Cos'è una cosa che si mangia? Guardatemi, io sono un genio! Freya! Mi faresti vedere i tuoi compiti! Ho bisogno di una mano! Ma cosa sta succedendo? I miei compiti sono impeccati! Non sopporto tutti quei cazzoli difficili! Ho bisogno di una stanza tranquilla in cui leggere! Ogni cosa mi ricordo il cibo! Freya! Freya! Non siete reali! Non siete reali! Vai svegliosa! Freya! Freya, svegliati! Oh no! Altri impostori! Smettetela! Rolf, tu eri simpatico e pieno di energie e volevi diventare un ninja! Freya! E, Lyra, tu eri intelligente e sempre gentile! Prima eri tu ad aiutarmi ogni volta che ne avevo bisogno! Eh, sì? Voi siete degli impostori! Andatevene via! Basta! Ora calmati, Freya! Stai sognando ad occhi aperti! Sognare? Ascolta, Rolf, cosa sai fare meglio? Abilità ninja super scatto! To-to-to-to-to-to-to-to-to-to! Lyra, mi fai copiare i tuoi compiti? No, Freya! Ma se vuoi ti posso aiutare a farli! Ah, meno male! Sei proprio tu! Che cosa ti prende? Certo, capisco! Era il tuo sogno! Divertente! Io invece ho avuto paura! Non preoccuparti! Noi siamo gli stessi di sempre, tranquilla! Sì, che sollievo! Oh, ma perché non eravate a casa quando sono venuta? Te l'avevo detto, ricordi? Ho fatto una gita per osservare le stelle Sono tornata da poco Io ero andato in città con la mia famiglia Capisco Sapete, amici, voi mi piacete così come siete! Sì, anche tu, Freya Ma non farti influenzare più dai tuoi sogni Comunque, se fai altri bei sogni, raccontaceli lo stesso Va bene Non voglio più fare dei brutti sogni La prossima volta spero di sognare qualcosa di bello E poi ve lo racconterò! Sì, ci contiamo! Certo! Bene, stanotte farò un bel sogno, me lo sento! Non ci riesco! Ho già fatto il pisolino del pomeriggio! Sarellina, dai, non urlare così! Lui è Christopher, è riflessivo E lui è Piers, sempre allegro Christopher conosce tantissime parole ricercate E a Piers piace mangiare Sarellina, dai, non urlare così! Sarellina, dai, non urlare così! Sarellina, dai, non urlare così! Sarellina, dai, non urlare così!